Giovedì 6 novembre ci troviamo a Torino, al centro congressi Torino Incontra per il workshop di infoprogetto organizzato da Action Group, editore in collaborazione con l'Ordine degli Architetti di Torino, si parla di design del benessere, un tema molto importante, abbiamo raccolto una serie interviste, ascoltiamo i protagonisti di questa lunga giornata. Oggi possiamo presentare alla platea una gamma di soluzioni che oltre ad avere il rispetto per quanto riguarda i serramenti e le facciate dei canoni legati alle prestazioni sia di risparmio energetico che di isolamento acustico, anche delle nuove texture, delle nuove finiture che consentono all'architetto e al designer di poter veramente sbizzarrirsi dal punto di vista della fantasia e quindi inserire l'elemento finestrato con delle soluzioni cromatiche veramente molto particolari, perché oltre ai 1600 colori della gamma RAL possiamo presentare oggi delle nuove finiture materiche, quindi che anche al tatto possono dare delle sensazioni differenti e soprattutto anche abbiamo creato una base legata all'effetto jeans che è un po' una provocazione, però voglio dire per il futuro sicuramente in determinate situazioni può essere applicata. L'altra novità che presenterò oggi alla platea degli architetti è il fatto che attraverso il nostro percorso legato alla sostenibilità, i nostri prodotti hanno ottenuto la certificazione PD di prodotto che è un riconoscimento a livello internazionale per quanto riguarda quindi non solo gli aspetti legati all'isolamento termico acustico, ma anche al consumo di energia nella produzione e alla riduzione di emissioni di CO2. Questo ci ha consentito di essere inseriti come azienda di eccellenza con i nostri prodotti nel legato al nuovo prezziero regionale della regione Piemonte, dove sono stati inseriti tutti i prodotti che sono dotati di questa certificazione di parte terza. Quindi questo è un riconoscimento molto importante che speriamo venga poi applicato dalle pubbliche amministrazioni nei prossimi appalti.